Presso l'aula consigliare del Comune di Agropoli si è svolto questa mattina il collegamento via Skype con il battaglione Task Force Itelbat, che opera sotto l'egida delle Nazioni Unite nel sud del Libano. È stata l'occasione per assistere allo svolgimento dell'inaugurazione dell'area ludico-ricreativa realizzata all'interno della Scuola Pubblica di Libano per i bambini dell'asilo. Tutto questo è stato possibile grazie all'iniziativa solidale Concerto per il Libano, realizzato a luglio scorso presso il Castello Angioino Aragonese dell'Amministrazione Comunale di Agropoli, retta dal sindaco Adamo Coppola, che vide il coinvolgimento di una rete di associazioni territoriali. In quell'occasione il grande cuore dei cittadini e delle associazioni partecipanti portò ad una raccolta fondi che ha permesso di realizzare l'opera in Libano. Quest'iniziativa è stata svolta grazie all'impegno di tutte le associazioni del nostro territorio che da sempre si occupano di sociale e noi abbiamo approfittato di questa occasione per poter creare una rete solidare. Tutto questo grazie a Giuseppe Apone, che è un maggiore dell'esercito italiano e un nostro concittadino, che ha coinvolto la nostra amministrazione in questo encomiabile progetto umanitario. Grazie anche alle associazioni che hanno cantato per esempio l'Aus Artisti Solidali, che hanno offerto un concerto meraviglioso, la Roland School, che ha offerto delle bellissime coreografie, la Proloco, l'Avis, i Rotari, la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, la FIDAPA, sezione di Agropoli, la protezione civile, la Croce Rossa italiana. Con i proventi 2.800 euro ricavati da questo concerto solidale per il Libano, è stato costruito una bellissima area ludico-rigreativa all'interno di una scuola materna del sud del Libano. Stamattina c'è stato questo collegamento Skype, quale modo migliore per salutare la primavera, benvenuta primavera all'insegna della solidarietà. Con una certa emozione stamattina abbiamo, con un collegamento Skype, avuto la possibilità di vivere anche noi l'inaugurazione di una ludoteca in Libano. La baggancio, naturalmente, i nostri militari che hanno voluto insieme a noi qui fare una raccolta di beneficenza qui ad Agropoli, perché poi Agropoli in qualche modo, nella sua complessità come città, ha donato questa ludoteca a questa scuola di bambini che vivono una situazione comunque molto difficile. E attraverso la bondata dei nostri militari che si sono adoperati per metterla in opera, utilizzando poi i nostri fondi, stamattina ci hanno fatto vivere una mattinata particolare, perché guardare i sorrisi di quei bambini che avevano per la prima volta la possibilità di accedere finalmente a una ludoteca in sicurezza, certamente ci ha fatto piacere. Noi abbiamo subito accolto con grande piacere la possibilità di poter aiutare chi appunto aveva necessità in questo momento e i bambini sono un bene prezioso e devono essere assolutamente tutelati e non dovrebbero assolutamente vivere quello che purtroppo sappiamo invece succede nel mondo. Quindi quando l'esercito ha chiamato, si può dire che assolutamente noi abbiamo partecipato con grande entusiasmo. Tra l'altro l'esercito è il nostro orgoglio, sono presenti in tutto il mondo, portano pace e questa è la dimostrazione.